Perché si erano lasciati Oriana e Daniele Dal Moro? I due ormai ex Viponi, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, come sappiamo, sono di nuovo una coppia e sono tornati assieme. Diversi problemi li avevano fatti litigare e allontanarsi, tanto che la ragazza aveva fatto la valigia ed era andata in Spagna, ma è stata proprio lei a fare il primo passo e ritornare dal suo Daniele. La ragazza si è presentata proprio a casa di Daniele, da lì hanno fatto pace cercando un punto di incontro. Daniele non vuole passare il tempo a discutere ed è una persona insicura, un po' come Oriana e entrambi hanno alle spalle un passato doloroso, ma insieme stanno cercando di superare tutto questo. Ma ritorniamo alla domanda iniziale. Perché si erano lasciati? Oriana è stata gelosissima di alcuni like che Daniele ha messo ad altre ragazze su Instagram, anche più belle di lei, e Oriana non riusciva a capire perché il suo uomo si comportasse così. Invece Daniele è stato gelosissimo quando la ragazza, dopo la festa del compleanno di Signorini, è andata a casa di Antonino, ma non sola, ma insieme ad altri vipponi. Insomma, quasi tutto è stato chiarito, quindi nella coppia è ritornato il sereno, speriamo per tantissimo tempo ancora.